questo vuol dire avere un progetto questo vuol dire da parte di una società in generale della dirigenza di una squadra vuol dire avere un progetto tecnico avere signori un'idea in mente chiara e non cercare qualcosa nel mercato perché io per esempio mi sto riferendo ambiente Roma in questo caso visto che è l'esempio più palese di mercato sbagliato che abbiamo quest'anno in Serie A basta vedere in realtà la Juventus la Juventus ragazzi fa un colpo clamoroso se vogliamo per le cifre soprattutto per un giocatore potenzialmente fortissimo in generale fortissimo, fortissimo a niente a niente perché adesso te, ora te dimmi in generale nel mercato ma di qualunque vai a prendere un giocatore del genere da Lille che ha 23 anni che quest'anno andrà per i 24 che per carità è infortunato però un difensore da nazionale diciamo un difensore da nazionale che essendo infortunato non lo vai a pagare niente che per il futuro a parte ti ringiovanisce la rosa ma poi potenzialmente ti dà un titolare per il futuro a quelle cifre lì che oggi non ci prendi niente 3 milioni e mezzo 3 milioni 3 milioni e mezzo 3 milioni più bonus non ci prendi nessuno nessuno niente niente praticamente è andare a prendere un parametro zero di un giocatore che anche se te magari in futuro non sarai soddisfatto dell'acquisto lo potrai rivendere nettamente a molto di più a molto di più e questa è un'occasione che la Juventus bruciando la concorrenza di chiunque te la vai ad assicurare a niente cioè applausi ma applausi davvero perché queste sono operazioni di mercato intelligenti intelligenti perché anche a prescindere che un giocatore del genere come Thiago Jalò appunto in futuro per qualunque motivo perché magari è sempre rotto e non è mai ripartito perché magari non rientrerà più per vari motivi nel progetto nel progetto Juventus perché magari non riuscirà mai a ritagliarsi un posto da titolare o magari anche da riserva per dire se te tante le volte un giorno tu lo vuoi dare via rivendere svendere anche non l'hai pagato praticamente niente quindi in realtà tutto quello che il giocatore che hai acquistato a prescindere è già un plus ti farà per forza plus valenza per forza perché non si sta parlando di un trentenne trentacinquenne che ti vai a prendere a zero come poteva essere per esempio Idea Bonucci della Roma oppure magari i vari giocatori che ha comprato la Roma negli ultimi anni sempre per discorso fair play finanziario ma comunque per farvi questi classici esempi che magari sono giocatori che hanno anche un'età sì però che non sei sicuro al 100% che possano renderti nella squadra proprio per il fatto di infortunio proprio per un fatto che magari non sono più giocatori tra virgolette a livello fisico capaci di reggere certi ritmi invece qui ti vai a assicurare le prestazioni di un 23enne giovanissimo ora rotto quindi per carità di Dio il Lille tanto lo voleva dar via lui magari aveva paura che andasse in scadenza e quindi magari piuttosto lo si dà direttamente via lui è già rotto quindi ognuno in questo caso sia il Lille che la Juventus sono contenti entrambi oh ragazzi meglio di così guardate che la Juventus sta creando un progetto tecnico di giovani ma giovani forti 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 veramente interessante ma veramente interessante e già qualche cosina poco per ora perché comunque ancora c'è tanti strascichi dietro della vecchia dirigenza dell'allenatore che ancora probabilmente si dovrà pensare ad un allenatore nuovo per il prossimo anno e di vecchi ancora calciatori giocatori che stanno ancora in rosa e non sono più a livello probabilmente della nuova Juventus che potrebbe nascere che ancora non si vedano diciamo tutti questi grandi cambiamenti ma facendo anche subentrare qualche ragazzino veramente veramente forte già si è visto qualche cosa e ora nel caso di gennaio che la Juventus va a prendere un giocatore del genere infortunato per carità di dio però che ritornerà quindi diciamo che è un investimento per il futuro non un investimento per adesso già a zero praticamente perché l'ha pagato niente ti vai a assicurare un calciatore che molto probabilmente io non dico che al 100% potrebbe essere titolare perché c'è Bremer e Gatti che Gatti soprattutto sta facendo un grandissimo campionato e Bremer veramente difficile da levare dalla titolarità ma c'è ragazzi Tiago Giallò Tiago Giallò è un calciatore di livello assoluto di livello assoluto io volevo farci appunto questo video dedicato solo per questo acquisto perché per me è un acquisto da 9 9 prezzo età del calciatore prospettiva futura ti fa schifo plus valenza futura cioè cazzo volete di più cioè nel senso questi sono i colpi che in teoria in teoria per esempio avevamo fatto anche noi con Brecalo la Fiorentina con Brecalo però in questo caso Brecalo era più attempato era più attempato e non ha reso quindi nel caso adesso la Fiorentina lo andasse a vendere non l'hai pagato niente l'hai pagato anche lui 3 milioni 3 milioni e mezzo lo vai a rivendere anche forse a zero sti cazzi se Tiago Giallò dovesse fare questa fine sti cazzi ma di sicuro io sono convinto che visto il progetto della Juventus e come sta lanciando vari giovani sono convinto che in futuro Tiago Giallò non deluderà le attese assolutamente assolutamente visto anche quello che ha fatto a Lid niente ragazzi io solo questo ce l'ho da dirvi chapeau perché è giusto comunque anche riconoscere i meriti di un'avversaria che sta facendo mercato nel modo giusto e sta costruendo un progetto tecnico nel modo giusto cioè in una maniera comunque incredibile perché già si stanno vedendo come ho già detto prima i frutti anche dai vari giovani che sono saliti su anche dalla Juventus next gen così che sono che sono veramente veramente interessati quindi chapeau alla Juventus